Lazzaro, sei arrivato da pochissimo a Verona e già ieri hai il debutto con la nuova maglia. Com'è stato indossare la maglia dell'Elas Verona? Mi sono divertito tanto, però se dobbiamo parlare per la partita è così, non sono pronto ancora. Era la terza giornata, abbiamo lavoro da fare, però sono contento di essere qua. Sono contento di vestire la maglia dell'Elas e spero che abbia un anno in cui possiamo fare tante cose brave. A Bologna hai giocato quasi sempre come interno di sinistra, però ogni tanto ti abbiamo visto anche come esterno offensivo. Mandorlini ti ha già spiegato dove ti vede, dove ti farà giocare? Ancora presto no, però queste sono cose che saranno tra di noi, però ancora inizio è presto. Senti, cosa ha sbagliato secondo te lo scorso anno il Bologna? Perché è finita così? Per essere onesto non vorrei parlare adesso per l'anno scorso, solo dire che Bologna sempre sarà nel mio cuore, però adesso iniziamo un anno nuovo con una squadra nuova per me, meglio se parliamo solo per Verona. Volevo sapere una curiosità, tu sai perché si chiama Ellas, una nostra società? L'ho sentito una settimana fa, però non so se è vero. Praticamente è stata fondata in un liceo classico, si studiava il greco, il primo fondatore assieme a una classe ha chiamato Ellas. È diventata la squadra più greca d'Italia perché ci sei tu, Taxi e Moras, insomma tanti greci. Moras ci dice sempre che per lui è un onore avere questo nome di Ellas, anche per te è così? Penso che per tutti, anche per Taxi e qua che può dire lo stesso, ma sì è un onore. Un'altra cosa, l'anno scorso guardavo, non vuoi parlare del Bologna, però io guardavo da neutrale, e ho visto che nella parte finale del campionato c'era un giocatore che veramente non ha mai mollato in quel Bologna. E se è stato tu, devo essere onesto, non sapevamo ancora che tu venivi a Verona, insomma. Io sono così, soprattutto mi piace giocare a calcio, io lo amo, giocavo perché sono un professionista, giocavo fino alla fine, perché dovevo essere anche pronto per la nazionale. Certo, mi racconti un pochettino anche la tua carriera, come sei diventato calciatore, dove sei nato, chi ti ha insegnato a giocare a calcio, perché giochi a calcio? No, come bambino, come bimbo, giocavo sempre con i miei amici, dopo avevo capito che potevo diventare un calciatore, l'ho seguito, ho fatto questo che volevo, un po' di fortuna, chissà, però sono qua adesso, e mi piace questo che faccio. Mi spieghi bene com'è che sei arrivato alla fine a vestire la maglia del Verona, cioè da dove è nato tutto, la scelta, te ne avevano già parlato, hai parlato con Taxi che era già sto qui, te ne ha parlato Moras? No, mi hanno dimostrato che la società, quello che ho sentito anche dall'allenatore, che mi volevano tanto, così hanno speso anche qualche soldi a comprarmi con Bologna, per me quando una squadra ti vuole bene, hai un'opportunità di giocare, vieni qua, non so, avevo anche altre squadre, però ho scelto Elas, c'erano anche amici qua, la città è bella, non so, però la cosa più importante era questa, che la società mi ha dimostrato che mi voleva tanto. Annel, volevo chiederti, quanto è importante per te, magari anche per Taxi, formare un gruppo di giocatori greci all'interno dello spogliatoio? È importante, perché ai difficili momenti puoi parlare la stessa lingua, e ti capiscono meglio, però quello che ho visto, quello che ho sentito qua nello spogliatoio, ci sono tutti i ragazzi bravi, così possiamo fare un gruppo buono, vivere come la nostra famiglia, e così possiamo andare anche il campionato bene. Infine ti volevo chiedere, quanto conta per un giocatore come te aver disputato una competizione come il Mondiale? Mi ha dato tanta fiducia, però questo è finito adesso, che dobbiamo mettere un altro obiettivo, e fare tutto che è possibile per arrivare lì. Che idea ti sei fatto del Verona l'anno scorso da avversario fondamentalmente? Che idea avevo? Ho visto una squadra a Bologna, quasi grande, quasi grande squadra. parlo sempre per quello che ha dimostrato nel campo. Ho visto una squadra anche alle altre partite, che giocava bene, giocava un calcio più offensivo, ma forse era anche questo che mi ha fatto venire qua, perché a me, come ho detto prima, mi piace giocare a calcio, e così avrò un'opportunità grande. Visto che ridevate prima, Taxidis, visto che è ancora giovane, insomma, neanche tanto, però comunque ha 23 anni, dove può arrivare fra quattro, tu sei leggermente più vecchio di Taxidis, però insomma, conosci il valore, probabilmente non è tutto il valore che ha mostrato fino adesso, senza fare l'assist da amico, da compagno di squadra. Secondo te dove può arrivare? A Miconos solo. Eh, a Miconos, magari sì, in vacanza, sì. Ma secondo te? No, no. Il livello di calcio può toccare? Ha un grande talento, secondo me. Come è arrivato due o tre anni fa, che giocava a Roma, secondo me lo può rifare, ma dipende tutto a lui. Per un giocatore che viene dalla Grecia e che quindi può avere comunque anche un mercato internazionale, cosa ti porta a continuare l'esperienza in Italia dopo quella di Bologna? Ti piace l'Italia? Ti piace la Serie A? Se non mi piaceva, non rimanevo. Questa è una cosa chiara. Sono qua perché il campionato è fortissimo, perché mi posso migliorare come giocatore e perché tutto quello che ho vissuto qua mi è piaciuto e voglio continuare a vivere così. Grazie. Grazie.